La passione per la bellezza, l'eleganza e la precisione tecnologica firmata Mercedes-Benz sono elementi che Delta Motors condivide con tutti i propri clienti, a cui annuncia il nuovo servizio di carrozzeria nella sede di Ancona. Delta Motors, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz per le province di Ancona e Macerata, è ora quindi pronta a prendersi cura delle preziose auto della casa di Stoccarda con prestazioni di alta professionalità e competenza. Tra queste, quello di riparazione di ammaccature graffi. Qualunque sia infatti la piccola imperfezione dell'auto, il nostro team è pronto a eliminarla, restituendo la lucentezza originale. La tua Mercedes-Benz merita il massimo. Da noi sono le migliori tecniche e i migliori materiali disponibili sul mercato per una verniciatura davvero perfetta. Il risultato? Un finish impeccabile che farà risplendere l'auto. Per riparare o sostituire parabrezza, vetri laterali oppure lunotti, si usano nella nostra carrozzeria solamente ricambi originali Mercedes-Benz, garantendo in questo modo l'integrità e lo stile distintivo di ogni vettura. Anche i danni da grandi ne possono essere una brutta sorpresa, ma nessun problema per il nostro team. Grazie infatti all'uso dei levabolli professionali, questi segni scompariranno come per magia. Vuoi rendere la tua Mercedes-Benz unica? Nessun problema con i servizi di wrapping che consentono di rivestire parzialmente o completamente il veicolo con pellicole adesive di alta qualità. Sarà un piacere accompagnarti nella realizzazione della tua personale visione, per un risultato perfetto. Le vetture Mercedes-Benz che entrano nella nostra carrozzeria meritano solo il meglio e noi siamo qui per garantire proprio questo. Scegli Delta Motors per la tua carrozzeria Mercedes-Benz perché sappiamo quanto la tua auto sia importante per te.